ciao a tutti bentornati sul mio canale ecco qua il mio terzo set natalizio e ultimo di quest'anno in questo video ho usato questo meraviglioso set della marca modelones il set contiene 6 colori di sfumature nude il boccetto ha un design molto particolare e i colori sono superpigmentati per questo set ho scelto di fare dei design molto semplici per disegnare sopra il top matte uso solo paint senza dispersione grazie a tutti Copro il naso e la cintura della rena con 3D gel trasparente. Uso il colore bianco di questo set per disegnare le linee. Il colore bianco di questo set per disegnare le linee. Aggiungo le linee in superficie con paint bianco senza dispersione. Il colore bianco di questo set per disegnare. Con paint verde senza dispersione disegno una stella e non asciugo il lampada. Spolvero sopra il glitter verde molto fine e asciugo il lampada. Il colore bianco di questo set per disegnare le linee. Il colore bianco di questo set per disegnare le linee. disegno la barba con il sempermanente bianco del set. Il colore bianco di questo set per disegnare le linee. Aggiungo le mani e i piedi del gnomo con paint nero senza dispersione. col paint verde disegno il cappellino del gnomo e non asciugo il lampada. colore bianco di questo set per disegnare le linee. Aggiungo i glitter verde. Aggiungo i dettagli della barba con paint bianco senza dispersione. colore bianco di questo set per disegnare le linee. colore bianco di questo set per disegnare le linee. Copro il naso con 3D gel trasparente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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